E salve a tutti amici, bentrovati in questo nuovo tutorial dal vostro AlexFlyce! Oggi come potete vedere parliamo dei poteri O ed in questo breve video vi mostrerò come prenderli praticamente tutti in Pokémon Rubino Mega e Zaffiro Alpha Cosa dobbiamo fare per prenderli tutti? Beh, inizialmente assicuratevi che abbiate almeno salvato il mondo dalla minaccia di Grodo e Nechiocre Fatto questo non vi resterà altro che entrare e uscire dal centro Pokémon Un centro Pokémon qualsiasi e dialogare con i signori che ci sono nell'angolo a destra E degli praticamente sempre di sì Ripetendo questa operazione fino a quando non troveremo più nessuno di questi signori Dopo che parleremo così con il sesto tizio Praticamente dobbiamo andare adesso a Ciclamipoli Infatti una volta che potremmo accedere ai appartamenti Dopo il dialogo con Walter se non lo abbiamo ancora già fatto Dobbiamo dirigerci precisamente al primo sulla destra Dove potremmo trovare due tizi di nostra conoscenza Trovate e riparlateci ancora una volta con entrambi Per poi dirigervi verso l'edificio immediatamente di fronte Dove trovate quest'altro tipo Parlateci due volte E poi alla fine tornate così di nuovo al tizio con la maglietta rosa Al termine così di tutti questi dialoghi Tornate dove eravate precedentemente per assistere a questa strana scena Ovvero di questi tipi che danzano intorno al tipo un po' più serio E guardate un po' Tadam! Si trasforma in Beanstar Bounding Ovvero il tipo che anche in Pokémon XA Y Ci dava il potere O covata Che se vogliamo è il potere più importante e utile insomma Perché ci aiuta nelle covate Come dice il nome stesso E questo dunque era l'ultimo potere O da sbloccare Che dire così il video si può dire concluso Spero vivamente vi sia servito e vi sia stato utile Mi dispiace se non ho potuto portare un gameplay registrato da me Ma non ho ancora né il 3DS E nemmeno avevo la possibilità di registrare questa cosa Perché lo avevo già fatto per sbaglio durante l'avventura Detto questo ci vediamo ad un prossimo video Mi raccomando non mancate un saluto a tutti da LexFlyes Ciao ragazzi